buonasera a tutte e a tutti benvenuti a questo quarto incontro dei giovedì del parri oggi è un grande piacere che presentiamo il libro di mario snenghi vite vissute no i luoghi della mia memoria edito dal mulino nel 2020 e mario snenghi è uno dei maestri della storiografia contemporaneistica italiana ha insegnato a padova torino venezia dove è stato anche direttore del dipartimento di studi storici ricordo poi velocemente che è stato direttore della rivista di storia benetica presidente anche dell'iveser istituto veneziano per la storia della resistenza della società contemporanea il libro che presentiamo stasera un libro di grande interesse a mio avviso è un percorso biografico intellettuale che appunto traccia mario snenghi e ripercorre una vita molto intensa di un impegno non solo storiografico ma appunto direi intellettuale molto freddo molto presente sia nella realtà della sua regione nel veneto ma più in generale sul piano della della storia della cultura nazionale a parlarne stasera sono con noi maddalena carli insegna storia contemporanea all'università di teramo che si è occupata di nazionalismo italiano e di fascismo e mi piace ricordare che appena uscito un suo libro importante vedere il fascismo arte politica nelle esposizioni del regime pubblicato da caroci e insieme a maddalena carli e paolo pezzino presidente dell'istituto nazionale ferruccio parri lui storico insigne autore di studi molto importanti sulla mafia ma soprattutto sulla seconda guerra mondiale sulle stragi naziste in italia ricordo limito qui a ricordare la grande progetto sull'atlante delle stragi naziste fasciste che appunto paolo pezzino ha coordinato pochi anni fa e direi di non non di passare subito ai nostri lavori io passo adesso la parola maddalena carli per una riflessione sul libro di mario smeghi poi appunto interverrà paolo pezzino prevista dunque una poi una replica di mario smeghi poi noi raccoglieremo anche le vostre domande e quindi presenteremo queste domande a mario smeghi e poi prevediamo quindi anche un secondo giro insomma una interlocuzione tra il pubblico e l'autore grazie e passo la parola a maddalena carli grazie filippo e grazie innanzitutto agli organizzatori per avermi invitato a partecipare a questa presentazione e a mario smeghi per aver scritto un'autobiografia elegante interessante e che non è necessario introdurre se non forse per sottolinearne due aspetti che mi sembrano di rimenti in primo luogo l'arco temporale affrontato si tratta di una autobiografia che affonda le proprie radici nell'infanzia e termina i giorni nostri i toni e lo spazio dedicato alle differenti stagioni sono diseguali ma è un volume in cui mario smeghi si è confrontato con l'arco di tutta la propria vita e non solo con quello che lo ha visto affermato studioso e docente universitario oltre che è protagonista della politica culturale nel senso alto dirai del nostro paese vorrei attirare l'attenzione in secondo luogo sul titolo vite vissute e no e collegarlo con la frase con cui si apre il volume anche a me in qualche settimana fa presentavamo un altro libro insieme con mario snenghi e ci confessavamo quanto ci piace citare gli autori che presentiamo allora comincio citando per chi non l'avesse ancora letto l'inizio del volume le svolte della mia vita ora che ci rifletto sopra a me verrebbe naturale più lusinghiero meglio fesso che furbo vedermi e raccontarmi in marcia su un rettilineo assumendo come virtù la coerenza e continuando a guardare di traverso i trasformismi e revisionisti trasformisti e revisionisti di cui i miei tempi e la mia generazione offrono gloriosi prototipi ma l'occasione buona per vedere più a fondo le svolte quelle effettive e quelle possibili i bivi gli o di qua o di là risolti in un modo invece che in un altro ci sono stati ecco credo che questa autobiografia oltre a fornirci interessantissime informazioni sull'autore la produzione e il contesto in veneto che è l'italia si dice a un certo punto citando de rosa ma anche torino e la penisola percorse lungo e largo da un giovane professore che ha il senso nazionalizzante degli esami di maturità eh dicevo del contesto in cui ha operato ci trasmette una direzione di riflessione metodologica importante e controcorrente ancora e nonostante il nuovo millennio le tante svolte relativistiche hanno accompagnato la storiografia degli ultimi decenni non esiste un tempo lineare e senza bivi senza scelte senza caso e farne il filo conduttore della ricostruzione della propria vicenda biografica mi sembra un atto di coerenza e da cui imparare non seguirò per questioni di tempo e di competenza l'intera struttura del volume in cui si affacciano uomini e donne a me noti per storia familiare nonostante l'accento sono veneta anch'io e per incontri generazionali molti degli allievi di snenghi sono amici e colleghi che incontro e con cui collaboro spesso ho pensato per favorire l'interlocuzione con l'autore e con il pubblico di soffermarmi su tre aspetti snodi della sua lunga lunga e fruttifera biografia tralascio purtroppo per questioni di tempo le belle pagine sull'infanzia e sulle geografie familiari come si intitola il capitolo corrispettivo e chiederei al professore snenghi di addentrarsi in primo luogo nella controversa collocazione nel mondo cattolico più precisamente nell'uscita dal mondo cattolico leggendo le pagine dedicate alla fusi e a quest'italia sembra quasi più drammatico il momento della separazione che quello della permanenza una permanenza tutt'altro che pacifica del resto racconta l'autore cito ma uscire dal bozzolo non è mica facile svincolarsi dal mondo cattolico nell'italia degli anni cinquanta è diventare diversamente adulti e diversamente cittadini il cuore del problema lo specifico della cittadinanza italiana i snenghi aggiunge aggiunge qualche riga dopo che graviterà altrove ma dentro il mondo cattolico sarà destinato a rimanerci per sempre in che senso o in quali sensi quello con il mondo cattolico è per te un legame che non si spezza mai nemmeno negli anni del movimento studentesco e poi della nuova sinistra in quelli diciamo più adulti dell'università e di altri mondi e interlocuzioni politiche il secondo aspetto che mi piacerebbe i snenghi affrontasse è immagino glielo abbiano chiesto anche nelle altre presentazioni il rapporto con la letteratura e con gli intellettuali dunque non si tratta di un dato esclusivamente biografico la tesi di laurea e gli studi ibridi che lo portano per anni a fare domanda per entrambe le cattedre quella di storia quella di letteratura gli anni dell'insegnamento nelle superiori la prima cattedra di storia del giornalismo all'università di padova l'argomento della sua attività di ricerca universitaria si tratta mi sembra di un modo di fare storia e di scegliere le proprie fonti di un modo dunque di guardare al passato di farlo parlare come anche di parlare dal presente il snenghi studia la letteratura e gli intellettuali li scopre li edita li ricopia se necessario in un periodo senza macchine digitali né fotocopiatrici nemmeno scanner li fa diventare protagonisti del suo primo grande progetto di studio sulla grande guerra al tempo stesso fonda riviste vi collabora scriverà addirittura per i quotidiani con la consapevolezza di produrre testi che diventeranno a loro volta fonti per il futuro tra le tante conferme che è possibile trovare nel libro il snenghi afferma della trilogia sulla grande guerra cito al centro non c'è però propriamente la guerra ci sono gli intellettuali l'anteguerra la guerra il dopoguerra sono reagenti ma i protagonisti sono loro il che fare in particolare dei piccoli o medio piccoli intellettuali i vent'anni e trent'anni di due generazioni prima della nostra intenti a fare le loro scelte a definire il senso della loro vita mi sembra una frase chiave del suo questionario di storico soprattutto se formulata negli anni sessanta del novecento professore snenghi come la considera oggi dopo essere passato per altre esperienze e per altre fonti mi avvia a concludere con un terzo aspetto che mi piacerebbe come dire sollevare nel volume autobiografico snenghi lamenta più riprese di essere stato troppo spesso identificato con la grande guerra come se si fossero dimenticati gli altri aspetti della sua moltiforme produzione memoria e non solo i luoghi della memoria garibaldi dell'ottocento ma a me interessa soprattutto il fascismo con uno libro soprattutto intellettuali e militanti intellettuali funzionari appunti sulla cultura fascista uscito nel 79 che ha rappresentato un modo nuovo di affrontare la cultura fascista di poterla interrogare avvicinare capire nel suo funzionamento è forse uno dei libri che personalmente mi ha cambiato di più e spinto a lavorare sul ventennio a partire dalle sue forme intellettuali e artistiche chiederei al professore snenghi dei commentare queste righe della sua autobiografia sulle quali sto riflettendo da giorni e che mi sembrano molto importanti nella ricostruzione di un passaggio storiografico che rischia altrimenti di andare perduto mentre sostiene sostanzialmente che di aver percorso una sorta di rappresentato una sorta di terza via nel dibattito pro o contro di felice disney gli afferma io affronto e racconto l'italia fascista niente affatto come una parentesi ma come un grande capitolo della storia d'italia pieno di prima e di dopo so fin da bambino che i fascisti sono davvero esistiti e anche i loro ricordi fedeltà e citatrici credo che questi prima dopo so fin da bambino che i fascisti sono davvero esistiti che rinviano poi alle pagine iniziali dell'autobiografia meriterebbero per la loro importanza e lungimiranza qualche parola di commento e per ora mi fermo qui grazie grazie maddalena carli per queste questa lettura e per queste sollecitazioni molto importanti che hai posto al marisnenghi io adesso passerei subito la parola all'altro nostro relatore di oggi paolo pezzino prego paolo microfono 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 ok dicevo intanto ringraziavo e dicevo cercherò di essere altrettanto sintetico anche se non è facile perché la quantità di stimoli che la lettura di questo libro molto denso di mario snenghi mi ha suggerito è tale che mi verrebbe voglia di parlarne di discuterne con lui per ore ma magari ci sarà un'altra occasione più seminariale meno di presentazione per discutere intanto devo dire un libro che a me è piaciuto molto con una scrittura molto densa che ricorda un po' la sua oratoria la pagina 287 i snenghi dice che a volte i suoi critici soprattutto gli studenti mi pare di capire osservavano che nel parlare segue una logica mia poco lineare tramata di rimandi e associazioni mentali ecco anche questa scrittura è così è piena di rimandi associazioni mentali citazioni esplicite e riferimenti a nomi a personaggi e proprio per questo è una scrittura molto densa che stimola in continuazione il lettore a collegamenti di tipo storico o di tipo semplicemente di tipo intellettuale devo dire che che cosa che figura viene fuori da questa biografia direi la figura di un intellettuale a tutto tondo dire uno storico mi sembrerebbe riduttivo intellettuale a tutto tonto a con alcune caratteristiche che purtroppo si sono perse lasciatemene sottolineare una i snenghi fin dall'inizio della sua formazione universitaria vuole fare l'insegnante l'insegnante di scuola eh abbandona ehm sia pur coltivandoli sempre ma abbandona l'idea di fare di dedicarsi pienamente alla politica perché il suo mondo è fare l'insegnante eh tra l'altro eh il la prima sua cattedra la prima sua esperienza come supplenta a feltre che non è un'esperienza felice mi fa incontrare una persona a cui io sono molto affezionato il professor Silvio Guarnieri che insegnava era incaricato di storia della letteratura italiana contemporanea a Pisa quando io facevo eh l'università una persona di grande umanità purtroppo molto poco considerato accademicamente nel nel 68 schierandosi con gli studenti veniva umiliato dai baroni della facoltà in maniera indegna ma insomma feltre e schioggia soprattutto che è un primo momento felice Padova eh danno 15 anni di insegnamento a scuola alcuni di questi contemporaneamente di insegnamento a Padova sulla prima cattedra di storia del giornalismo era una figura di intellettuale che faceva sì che tra le scuole secondarie e non il liceo perché insegna i snenghi insegna un itc a delle magistrali e all'iti e all'università vi fosse un eh rapporto eh continuo di eh passaggio di insegnanti ma ovviamente anche di risorse io ricordo che il mio maestro Mario Mirri ha insegnato a lungo eh a scuola io l'ho conosciuto in quinta ginnasio quando a Lucca frequentavo il liceo di Lucca dove lui insegnava storia e filosofia e quindi questo è un primo eh elemento il secondo elemento è che i snenghi è un grande ricercatore eh fiuto per le fonti eh i giornali gli intellettuali eh in una lezione in una prosecuzione direi della ehm indicazioni gramsciane su letteratura e vita nazionale gli interessano gli intellettuali ma non i grandi i medi i piccoli intellettuali quindi scopra scopre libri eh riviste eh sconosciute eh e così via ehm però non è solo un ricercatore la sua vita è una vita che è vita di un grande organizzatore culturale leggendo il libro io sono rimasto veramente sbalordito ovviamente molte di quelle cose le conoscevo ma alcune no sbalordito delle imprese eh culturali delle collane delle riviste eh nelle quali i snenghi si è impegnato e si è impegnato fino in fondo è un ehm intellettuale a pieno titolo anche perché la sua eh partecipazione come opinionista eh alla vita di alcuni giornali anche giornali importanti e sempre diversamente da altri colleghi suoi che hanno smesso di fare gli storici e si sono trasformati in opinionisti politici quando scrivono sui giornali e sempre intrecciati invece dei suoi interessi della sua cultura della sua passione eh storiografica ed è un intellettuale a pieno titolo anche perché quando alla fine mh passa direttamente ed esclusivamente alla carriera eh accademica diventa eh un vero e proprio maestro con una una scuola eh potremmo dire l'iniziatore il capofila eh di una scuola di allievi eh molti di questi sono nostri colleghi li conosciamo eh nel libro c'è anche il rammarico per non aver potuto eh dare a tutti coloro che l'avrebbero meritato la possibilità di avere accesso eh all'università e quindi mh storico eh insegnante eh di alle scuole eh redattore di riviste l'esperienza della rivista di storia contemporanea prima poi di Venetica ehm una produzione scientifica eh enorme che spazia oltretutto perché appunto eh lui è noto come storico soprattutto della grande guerra ma in realtà ha spaziato da Garibaldi al fascismo i luoghi della memoria tutta la serie e la collana dei luoghi della memoria alla quale io ho avuto la fortuna di partecipare con un piccolo osaggio sulla mafia come il luogo della memoria e mh e questo eh tutto questo è eh eh narrato nella sua eh autobiografia con grande capacità anche autocritica anche autocritica soprattutto le domande che si pone sulla sua presunta terzietà rispetto non solo a De Felice ma rispetto alla temperie che si abbatte su Padova con l'indagine del 7 aprile in cui i smenghi cercano di mantenere una via di mezzo fra gli autonomi alcuni di questi come Toni Negri li conosceva bene provenivano come lui poi dall'area socialista e chi eh in particolare i comunisti si schierano Tukur dalla parte delle eh dello Stato e quindi ehm riflette su se stesso sulle sue posizioni e non sempre mh è convinto che le sue posizioni fossero non dico giuste perché per lui lo erano ma fossero effettivamente efficaci e riuscissero a eh eh influire sulle realtà io mh due domande li farei specifiche ma molte ne ne sarebbero eh con la crisi di fine secolo eh cambia tutto cambia il mondo politico ma cambia anche il mondo degli studi ehm i smenghi si sente a un certo punto quasi fuori luogo molto belle le pagine su Gargonza quando davanti a un personaggio come Sergio Bertelli lui fa un po' la parte dell'ingenuo che continua a credere alle grandi narrazioni storiche eh che hanno al centro stato nazione eh istituzioni eh ceti sociali e così via davanti al libertino Bertelli come si autodefiniva perché aveva studiato i libertini per i quale bisognava essere post ex e post in fondo a pagina 300 parla eh che di un di se stesso che attraversa che ha fatto in tempo ad attraversare le macerie anche qui lasciatemi dare una breve eh citazione i destini personali volgono a illustrare una grande questione generale io sono entrato in una università italiana fatta in un modo l'ho attraversata mentre brutalmente vorticosamente cambiava e ho fatto a tempo ad aggirarmi a occhi aperti tra le macerie ecco gli chiedo se le macerie di chi parla sono solo le macerie istituzionali il taglio dei fondi il taglio delle cattedre eh il tre più due ha dato un colpo definitivo alle tesi di laurea eh soprattutto per il tre ma se non siano anche macerie di tipo storiografiche nel senso che appunto il tipo di storiografia che lui ha praticato e che continua a eh difendere che anche a me sta molto cara una storiografia che tende a ricostruire partendo pur dal basso ma quadri generali non sia più quella che eh all'inizio del nuovo eh del nuovo millennio viene eh praticata se cioè non ci siano anche dei cambiamenti nel la sensibilità stereografica nei quali lui non si ritrova la seconda eh domanda è più specifica lì che lui mh ha avuto ruoli importanti nel nella rete degli istituti è stato per due anni eh vicepresidente con la presidenza di Rochard e poi soprattutto è stato per mi pare un ventennio presidente delle che era da poco nato e che sotto la sua presidenza diventa uno degli istituti più vivaci della rete della prima esperienza quella nazionale parla poco e non con toni eh lusinghieri ecco vorrei che forse approfondisse questo questo argomento se non altro per eh perché come appunto presidente ora improvvisoriamente della rete degli istituti nazionali vorrei capire quali errori evitare perché queste esperienze non siano eh poco gradevoli come quella che sembra che io mi è sembrato di capire Mario Esnenghi ha vissuto come vice di Rochard grazie 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 Paolo Pezzino eh beh insomma sono state già sollevate molte importanti questioni quindi direi passo subito la parola a Mario Esnenghi prego grazie a tutti naturalmente bisogna sempre fare la tara tutte le belle cose che ci sentono dire di sé quando c'è una presentazione di un libro evidentemente questo vale anche per le presentazioni virtuali almeno in questo sono simili alle presentazioni normali ma anche facendo la tara beh mi pare che restino molte motivazioni di tutti motivi di soddisfazione in voi come miei lettori e quindi in me adesso eh gli spunti anzi qualche volta in forma espressa di domanda che mi avete proposto vanno ben al di là del quarto d'ora circa che mi pare avrei quindi Filippo Focardi è più di un quarto d'ora eh Mario e mi abbada perché ovviamente ci sono molte cose da dire seguirò comunque l'ordine delle due relazioni e quindi dai primi tre snodi che Maddalena Carli ha proposto e il primo è quello relativo al mondo cattolico mentre ascoltavo una volta di più mi sono reso conto dell'importanza che è contemporaneamente privata e pubblica cioè per me nella mia personale geografia e per l'Italia così com'è e per la sua storia benissimo perché proprio di queste situazioni andavamo in cerca io e il Molino quando decidevamo di fare questo libro ci volevano queste situazioni in cui io non venissi a fare il Proust non ce ne aveva bisogno ma parlando di me parlassi di questioni anche altrui ora è ovvio che la cittadinanza italiana è insidiata o arricchita dalla cittadinanza cattolica che in ogni caso la nostra cittadinanza di abitanti del bel paese è sempre doppia ma lo sappiamo o non lo sappiamo io lo so benissimo grazie forse a quell'anno e mezzo all'inizio dell'università quando per ragioni abbastanza anche banali ed estrinseche originariamente mi sono trovato a frequentare una sezione della Fucci che poi non era semplicemente quella della mia città perché in quel momento Venezia voleva dire come patriarca Roncalli che stava per spiccare il volo verso il papato e verso il concilio e accanto a me a noi a questa grande sezione con notevolissimi assistenti spirituali stava per nascere la rivista Liberale di Milo d'Origo quest'Italia che offrirà una via d'uscita in avanti invece che un semplice andar via magari non sbattendo la porta ma semplicemente andando via c'erano almeno due modi per essere cattolici certamente in tutti e due gli ambiti sia cattolici democratici io Gramsci ho cominciato a leggere la Fucci mica ci facevano leggere soltanto le encicliche c'era qualche vecchio manifesto ancorato ai muri da chissà quante generazioni che ci ricordava che in fondo eravamo in un certo luogo d'altronde anche il luogo materiale era incistato dentro al palazzo patriarcale sotto di noi c'era la libreria studio c'era e c'è tuttora una bella libreria non certo solo religiosa questo è un momento di oggi quindi insomma diciamo che il cattolicesimo italiano si presentava al suo più alto livello per noi giovani speranze del cattolicesimo veneziano e proprio perché era al suo più alto livello il come andava a finire risultava insieme delusorio e istruttivo perché arrivano le elezioni di 58 e in questo bellissimo luogo di approfondimenti teologici e intellettuali però ci chiedono di votare per la DC pari pari così come se fosse naturale mentre la parola d'ordine continua era l'autonomia delle sfere ma ritengo qua ma ritengo là poi arrivano le elezioni doveva finire l'autonomia delle sfere siccome avevo imparato e me lo tenevo per detto la necessaria conseguenzialità tra le parole e i comportamenti me l'avete insegnato voi? Sono uscito via quest'Italia dove c'era posto per cattolici democratici e neosocialisti ecco questa obiezione di coscienza penso che non sia solo mia personale e quindi penso che questo capitolo della mia autografia sia significativa scusa Mario ho fatto anche io la stessa esperienza sono stato due anni in fuce e poi sono uscito ecco ma non hai avuto una quest'Italia vicina no purtroppo no purtroppo dalle tue parti c'era c'era Pistelli non ha fatto una quest'Italia ma era uno dei quattro evangelisti di cui ci parlava sempre Dorico Pistelli e li considerava te uno o due verste sotto di lui ma comunque validissimi personaggi insomma Demita Pistelli e così via Galloni e il milanese di cui mi sfugge in questo momento il nome va bene allora naturalmente il corollario qual è? che sono diventato anticlericale certo l'autonomia delle sfere significa la libertà di giudizio la libertà dello Stato la libertà della cittadinanza restando o no il singolo cattolico a fare i suoi qui diventa privato che io abbia deciso di andarmene non che ci fossero allora come formule cattolici adulti ma cattolici adulti c'erano di fatto quindi si poteva già allora essere di sinistra e contemporaneamente avere queste problematiche religiose non mi riguardava e ho cercato casa altrove attraverso quest'Italia poi nel mondo socialista il che ha significato incontrare Tony Negri incontrare Luciano Ferrari Bravo ed altri nella sinistra del partito socialista a Padova dove la sinistra reggeva la federazione cosa rara se non forse unica in Italia esprimeva anche un deputato deputato Ceravolo che sarà poi il capogruppo del PSUP quindi era veramente la sinistra nel partito socialista allora e nella sinistra voleva dire che cosa? ma di tutto, di più voleva dire da Gianni Bosio a Raniero Panzieri passando per Vittorio Foa beh insomma non dico il meglio della politica italiana ma una buona parte del meglio della politica italiana ecco vissuto così era un modo per conoscere perché non si trattava solo di leggere ma anche di incontrarli per davvero e non era mica male per un ventenne per un ventunenne poter incontrare pezzi di storia d'Italia fra le due guerre quando era Foa e pezzi di storia d'Italia la seconda dopoguerra quando era Panzieri io ho un grande ricordo di Raniero Panzieri a me sembrava un maestro politico molto notevole è quello che mi è piaciuto di più di tutti i leader operaisti che ha incontrati non farò i nomi di quelli che mi sono piaciuti di me ma in ogni caso erano incontri molto significativi ecco mi chiedo se essere passato per quell'anno anno e mezzo o meno di due per il mondo cattolico fucino non abbia contribuito a darmi una certa libertà di vedute e di comportamenti rispetto allo Stato cioè da una parte me lo ha fatto scoprire dall'altro in fondo mi ha fatto vedere pezzi d'Italia che avevano presunto di poterne far senza arrivando al mondo socialista incontravo altre aree ideali di differenziazione e distanziamento dallo Stato così com'è in chiave appunto socialista internazionalista non è che si parlasse granché per la verità di internazionalismo e meno ancora di rivoluzione non erano parole più d'epoca ma certamente di alternativa radicale questo sì per cui io io mi considero un bieco statalista in termini economici ma forse non così bieco e in modo più problematico in termini politici proprio per avere incontrato anche queste alternative alternative all'interno dello Stato però alternative all'interno della storia d'Italia e quindi via via molto avverrà negli anni successivi grazie alla Lega alla Lega e la Lega per contrasto via via io mi sono sentito sempre più interno e corresponsabile rispetto alle sorti del paese in cui mi era avvenuto di nascere quindi una cittadinanza caricata anche di sensi di responsabilità rispetto alla sua storia sempre con l'idea che fosse possibile essere contemporaneamente dentro e fuori dentro e fuori forse davvero queste origini religiose con questa alterità che ha a che fare con i grandi principi con questa esigenza di rigore forse per vie traverse ha finito per avere degli effetti di rimbalzo anche successivamente e quando sono arrivato a Felpe straordinario qua incontrare Paolo Pezzino un allievo ed estimatore di Silvio Guarnieri che io purtroppo non ho avuto modo di stimare non in quanto studioso perché anzi era bravo ma in quanto mio preside io l'ho trovato flebile e indisponibile a difendere questo povero ragazzo venuto da fuori a interpretare appunto la parte del professorino venuto da fuori con questi vaghi tentativi di cambiare il mondo e cosa deve fare un povero insegnante supplente a 22 anni o quello che è se non cercare di cambiare il mondo era esattamente quello che altri preti mi avevano insegnato ma il mio prete era di Ocisi Bellunese non si riconosceva evidentemente in questo insegnamento lui dirigeva un stimolato diocesano ed era all'interno del mondo così com'è ed anche del mondo cattolico così com'è che Silvio Guarnieri non si sentisse del tutto interno al mondo feltrino così com'era lui appartenente a una grande famiglia di questa bellissima cittadina veneta e lo ha dimostrato dal fatto che fosse consigliere comunale comunista non la cosa più facile di questo mondo nel vento degli anni fine 50 inizio 60 io ero lì nel 61 ma lui ci viveva da sempre e quindi probabilmente andava sempre a prendere aria ogni settimana a Pisa poi tornava e anche la sua vita in fondo era basata su una alternativa di dentro e fuori contemporaneamente guarda te parlando viene fuori che devo qualcosa anche a Guarnieri oltre che fondamentalmente questa splendida medaglia di un licenziamento politico guadagnato sul campo modestamente ci tengo assai mi è parso un bellissimo inizio molto corrispondente a come volevamo essere cioè che ci fosse corrispondenza nel modo di esercitare una professione in un caso non c'era dubbio era fare insegnante rispetto a quello che uno pensava non ci potevano essere scissioni così doveva essere allora dirlo e scriverlo è una bella cosa ma praticarlo è ancora meglio a me è capitato e poi la fortuna è stata perché non ci ho perso niente perché invece che andare a spese mio su e giù per tutto l'anno a Feltre da Venezia un mese o due dopo ho trovato un posto analogo italiano e storie per tutto l'anno alle magistrali benci che ai tecnici ma insomma era la stessa cosa dal punto di vista dei programmi per non dire di altre vicende personali accadute in questo istituto magistrale veneziano per cui viva viva il fatto che mi abbiano mandato via da Feltre e tornando ad altre cose la letteratura dice Maddalena ma quante cose sono avvenute originariamente in modo contingente occasionale e si sono poi riempite di senso perché non mi sono levato in storia contemporanea perché non c'era perché non c'era mentre è arrivato ad un tratto un incarico di letteratura italiana contemporanea io avevo una tesi in latino facevo lettere classiche ho abbandonato dopo sei mesi la tesi in latino e sono passato con il professor Giorgio Pullini che poco più anziano di noi dieci anni più di noi studenti veniva a fare letteratura contemporanea e in soltanto ci lasciava impostare la tesi in larga misura come ci sembrava giusto e quindi io ho utilizzato i miei scrittori i miei intellettuali in senso lato sono diventati i miei documenti e così andrò avanti anche qui la contingenza c'è entrata moltissimo nel far di me uno storico così poco archivista io facevo l'insegnante medio io stavo a Chioggia e come si fa stando cinque giorni di ogni settimana a Chioggia a frequentare assiduamente l'archivio centrale dello Stato sapevo che avrei dovuto farlo ma sapevo che non lo potevo fare allora io mi sono inventato le mie fonti anche per queste ragioni non solo perché mi piaceva leggere gli scrittori certo che sì ma anche perché ho caricato di senso situazioni occasionali come essere capitato a segnare storie e giornalismo non me l'avevo mica sognato di notte non ce l'avevo mai pensato l'ho sempre pensato di fare l'insegnante medio questo certo che sì ma non di avere questo incarico annuale prima e poi via via durevole stabilizzazione associazione per la materia la materia la storia il giornalismo nella facoltà di scienze politiche padovate è capitato è capitato però non era illegittimo legarlo alle cose che stavo già facendo cioè valorizzare i testi e allargare il senso del testo dal grande scrittore intorno a cui io avevo sempre riverentemente scantonato per la verità visto che mi serviva il documento a maggior ragione adesso il documento dal piccolo o medio scrittore poteva allargarsi al giornalista al pubblicista e poi avanti così no? le figure i simboli i monumenti eccetera eccetera pagando pegno è ovvio finché non sono arrivati i libri scritti in inglese da storici o letterati inglesi o statunitensi non si poteva utilizzare per fare un libro di storia le fonti letterarie per fortuna poi sono arrivati i fassi del lead e tutto è diventato più facile almeno a livello metodologico a livello accademico concursuale e non le cose sono più complicate io sempre da povero festo anche accademico continuavo a partecipare a tutti i due concorsi perché le recensioni mi dicevano questo che io potevo far valere i miei titoli sui due piani ma è ovvio che dal punto di vista concursuale serviva solo a mandarmi da tizio a caio e da caio a tizio all'inizio così come programma massimo mandavo i miei titoli anche a sociologia della letteratura pensate con quale soddisfazione dei sociologi la mia terza via Maddalena Carli questo è un argomento bellissimo eh sì ma sono già i tre quarti il presidente va bene ora lasciamo la terza via tanto non si realizza mai eh non siamo vai 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 Mario ma sì era difficile non scagliarsi contro non tanto De Felice quanto i De Feliciani e il De Felicismo dei pubblicisti e dei giornalisti e degli ex assistenti di Renzo De Felice lavorando dall'interno degli istituti di resistenza come io lavoravo ed essendo redattore della rivista storia contemporanea diretta da Guido Quazza contemporaneamente presidente nazionale l'uomo e l'eccessore presidente Pezzina non era facile io ho cercato e credo di essere uscito ho cercato di non lasciarmi trascinare nelle polemiche più furibonde e pregiudiziali perché i miei libri sul fascismo in fondo sono del 79 non è che siano tanto successivi dal punto di vista cronologico anche perché i militanti intellettuali funzionari raccogli articoli usciti su Repubblica Repubblica esiste dal 76 e sul manifesto quindi anche da prima quindi sono scritti dalla metà degli anni 70 a questo punto non dico di venire addirittura prima ma non vengo molto dopo del Felice e studio un pezzo di storia d'Italia qui forse appunto le vicende familiari le vicende familiari da me riconosciute perché le mie vicende familiari sono quelle di tutti in sostanza e cioè avere avuto una famiglia fascista c'è di strano nulla certo poi viveva a Venezia e che ha significato vivere in epoca ancora fascista anche nel 43 44 45 con gli occhi aperti perché avevo un'età per cui ero piccolino ma e poi ho buona memoria e quindi credo di ricordare bene altra notizia per la poetica dichiarazione poetica tutto quello che leggete è vero ovviamente è vero secondo le mie percezioni del vero beh siccome io lavoro sempre sulle percezioni posso sempre salvarmi in angolo in questa maniera ma non ci sono situazioni romanzate non ci sono ci sono tutta il più rarissime mancanze di nomi tutti i nomi che ci sono sono veri qualche cognome non c'è ma quanti due ecco e allora questa terza via a me parli sì perché dalla parentesi io mi sono tutto lontano da sempre nella vita e negli studi non mi sembrava difficile essere non pertanto antifascista come giovane cittadino e però riconoscere le loro verità le loro convinzioni le loro emozioni allora negli anni 70 non si parlava così tanto come poi di sentimenti e emozioni come contenuti della storiografia però c'erano già che se qualcuno voleva riconoscere lo poteva fare ecco io ho cercato di le domande di Paolo Pezzino ma in parte ho già tenuto conto anche di quello che diceva lui non soltanto lo che diceva soprattutto l'ultima domanda venendo a fare questa presentazione organizzata dall'Istituto Parri non potevo non pensarci sopra praticamente al di là della domanda che poi è venuta espressa ci avevo pensato per quanto mio è chiaro che questa è una delle mie vite non vissute non addirittura del rilievo di non essere diventato un sindaco o un deputato democristiano di non avere continuato a fare il cattolico militante di non essere diventato un autonomo in galera come qualche uno dei miei amici e compagni anche quelle scelte non li o anche non avere fatto le scelte di un altro mio amico e compagno dell'adolescenza Gianni De Michelis perché no avrei potuto fare il politico di professione quanti nell'Unione Goliardica hanno fatto il politico di professione tantissimi quindi lì è veramente stata una una scelta non mi sono sentito adatto e avevo voglia mi sentivo adatto invece a fare l'insegnante ho scelto bene mi è proprio piaciuto fare quello che ho fatto la vita che ho fatto mi è piaciuta io non ho nostalgie è andata bene così ho avuto molta fortuna anche nei momenti in cui c'erano dei problemi però poi sono risolti è anche per questo che visto che dobbiamo continuare nello scherzo del privato e pubblico possiamo pensare in grande e immaginare che la storia non sia finita e che ci sia qualche tornante positivo che sì un pezzino che ci permetta di riprendere la via eventualmente toccherà la prossima generazione e vabbè io non mi pongo limiti dal punto di vista temporale ho voglia di parteciparmi parteciparmi finché è possibile se non tocca a me tocca agli altri la storia va avanti più a lungo sì ma è la presidenza dell'istituto perché non sei diventato presidente chi lo sa se Giorgio lo sa in questo momento è o non è all'ascolto io gli ho mandato l'indirizzo gli ho detto se tu te la fai con zoom ascoltaci chi lo sa se lo sta facendo semmai glielo racconterò ma insomma ce lo siamo giocati non dico ai dadi chi doveva farlo chi doveva esserlo stavo per dire che io ho vinto no io ho perso insomma lo racconto tutte queste cose sono raccontate era il 96 io ero appena uscito dal Corriere della Collaborazione al Corriere della Sera proprio nel momento in cui Lampi aveva chiesto all'istituto di fare un grande convegno nazionale in cui bisognava dimostrare che l'antifascismo era ancora valido come chiave interpretativa dell'oggi ora il Corriere della Sera era scatenatissimo ma non era certo solo interpretava e cappeggiava l'anti-antifascismo quindi questo convegno dell'ampi e dell'istituto nazionale a Roma nel 98 diventato volume la terza due anni dopo intralciava una linea che quello che abbiamo imparato vivendo strada facendo non era solo lo sapevo già del Corriere della Sera e quindi figurarsi dei giornali più a destra del Corriere purtroppo finiva per essere sotto sotto anche dell'unità e di Repubblica che hanno ignorato quel convegno questo era il paesaggio politico in quegli anni lì sta per arrivare Renzi sta per arrivare la rottamazione ora la rottamazione non è tutta e solo nel partito comunista o nella società politica italiana e la classe dirigente è ovviamente anche all'interno degli istituti perché i comunisti ci sono e all'interno del partito comunista ci sono idee diverse sul partito comunista e su tutte le sigle successive che io stenterei in questo momento a mettere in ordine cronologicamente diciamo quelli che fino all'89 erano stati all'interno del PC non io anche se mi vergogno di dire di non essere mai stato comunista ma è andata così io sono venuto avanti attraverso i paraggi del partito socialista dopo di che l'ho votato infinite volte come tutti dico io il partito comunista ma credendo che fosse davvero il grande partito democratico di massa poi nell'89 ci svegliano di provviso ci dicono no no non è così avevano ragione i detrattori ma io non mi sono mai convinto di questo e quella vita non vissuta paradossalmente l'ho vissuta di più dopo che non prima e durante indirettamente però all'interno dell'istituto insomma quando siamo a metà io sono uscito dunque a tirarmi indietro la possibilità di diventare presidente in quella riunione a casa collotti in cui c'erano i maggiorenti diciamo così e ne esce Giorgio Giorgio Rochac che naturalmente è più rigorista ancora di me ovviamente era davvero lui era milanese io no insomma avevo delle buone ragioni lui c'era sempre stato io no avevo delle buone ragioni c'erano delle ragioni positive che lo spingeva verso la presidenza non è soltanto che io sia stato retoricamente più abile di lui a tirarmi indietro no c'erano delle buone ragioni lo doveva diventare lui naturalmente a questo punto non potevo non fargli la vicepresidente in realtà è stata una quasi sinecura mi sono impegnato molto di più nell'istituto veneziano che non nell'istituto nazionale perché perché lui era molto attivo perché chi stava da quelle parti poteva fare di più ma insomma a metà strada visto la presidenza durano due anni c'è stata la questione di fare la seconda volta e lui ha fatto il presidente una volta e io no perché 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 i rottamatori c'erano dentro l'istituto nazionale io ricordo benissimo questo attivo come si chiamava questa assemblea generale ma credo fosse un attivo nella vecchia sede in piazza Duomo in cui sono sbottato ad un tratto così per vis oratoria chiamato in causa dal sì da un possibile presidente che evidentemente era molto più vicino di me al giovane politico fiorentino ecco è andata così presidente mi fermo qui Filippo no e lasciamo il resto eventuali riprese o discussioni a seconda come usiamo il tempo grazie Mario grazie davvero grazie a voi allora la regia per il momento non mi segnala delle domande dal pubblico e magari arriveranno e chiedo o qualora arrivino a Igor Pizzirusso di mandarmele e siccome comunque i nostri relatori prima avevano detto diciamo abbiamo molte domande intanto facciamo queste avremo altre curiosità quindi direi ripasserei la parola a Maddalena Carli o a Paolo Pezzino che tra l'altro hanno sentito la brillante e scoppiettante come sempre risposta di Mario Snenghi e quindi forse hanno voglia di così di interlocuire con lui e scusate no no niente controllo il cellulare perché le domande mi arrivano sul cellulare allora devo fare questo gioco e quindi darei la parola o a Paolo o a Maddalena se appunto hanno osservazioni da fare o altre domande da porre a Mario altrimenti io rispondo a qualche una delle cose che hanno già detto se ne hanno di nuove mi fa molto piacere se no riprendo quello a cui non so di non aver risposto alla prima delle due domande di Paolo Pezzino prego Maddalena qualcosa da dire Paolo è senza microfono sempre no allora rispondi prima di fare un secondo giro è quella estensione che hai fatto dalle macerie dell'università alle macerie più in generale della situazione attuale che si possono anche estendere al modo di fare storia allora mentre ho già detto qualche cosa rispetto alle macerie diciamo della politica d'oggi dove non ho niente di particolare da dire se non che io così di mio non sono mai un catastrofico un catastrofista ecco così per cui mi servo sempre di quella di quella visione della vita che è fatta a tornanti per cui se anche si è precipitati molto in basso si può sempre tu sei in montagna poi avrai pure qualche tornante da quelle parti e tornanti vanno indietro di 180 gradi basta questo il fondo non chiedo mica 360 gradi basta andare indietro di 180 ma esistono queste possibilità nello spazio e nel tempo ma se vogliamo addirittura estenderlo al concetto di storia e di storia no non ti seguo cioè mi rendo conto che i campi i metodi gli approcci storiografici si sono fatti molto più diversificati che in passati e mi sembra che ci sia posto per molte vie motivate e proficue e che non sia necessario individuarne una e rinunciare ad altri podiamo una scoperta che di fonti che è avvenuta dopo che io avevo scritto la trilogia della grande guerra è quella della cosiddetta scrittura popolare in modo particolare i miei amici di Rovereto e di Trento hanno scoperto le lettere di quei contadini soldati più acculturati perché erano austriaci diciamo istituzionalmente invece italiani c'era maggiore l'alfabetizzazione oppure anche Antonio Gibelli in Liguria lavorando sulle lettere immigrati e così via tutto questo sembrava venire incontro in prima battuta certo che sì infatti ho lavorato con loro ho anche inventato il nome della collana Fiori Secchi della Marietti bellissimo nome della collana no? Fiori Secchi davvero sembrava venire incontro al mio bisogno delle fonti popolari quando scrivevo la trilogia della guerra all'inizio prima di queste scoperte dicevo ma mi tocca sempre adoperare gli ufficiali che parlano dei soldati perché trovare i soldati che parlano di se stessi è una parola tutt'al più riesco a trovare un sottotenente allora tenersi buoni ma la parte è commisso che partono dal basso però poi diventano intellettuali pure loro anche se abbastanza irregolari e più o meno insulsi che ci commesso ci ho provato e non sono mai riuscito a innamorarmi di questa fonte devo dire ecco sì come invece può essere avvenuta per altri sono un eretico rispetto a questa fonte lo so più di una volta ma dicendogli apertamente nelle tante tavole rotonde che abbiamo fatti insieme a Lovereto a Trento altrove sono un eretico rispetto alla fiducia che alcuni altri colleghi di storiografia mostrano di avere per quello che si può evincere da questi fonti dal basso dal basso ma quando io reclamavo le fonti dal basso non le trovavo mica ancora si parlava di classi subalterne i miei vinti di Caporetto io li interaglavo per vedere se volevano fare la rivoluzione come predicava Cadorna o temeva Bissolati a me non importava nulla se avesse la voglia di andare a casa o non certo quanto mi importava verificare se avesse la voglia di fare l'alternativa politica che ama la rivoluzione che ama la fare come la Russia così andavano le cose in quei lontani tempi e quando arrivano 20 o 30 anni dopo queste fonti popolari dal basso io non riesco a innamorarmi di una fonte in cui si parla sempre di come sta il maiale a casa quando va bene come sta il bambino bellissimo ma fondamentalmente si sta crescendo bene il maiale ora uno storico sociale naturalmente io lo capisco meno politico di me meno storico culturale di me può trovare interessantissimo anche tutta questa serie di tessere di carattere economico riportate alla vita quotidiana della gente ma per carità non lo capisco è una questione di criteri di priorità la vita quotidiana dell'intellettuale ho scoperto mi interessa di più della vita quotidiana del contadino ebbene sì ne sapevo anche di più mi sembrava di riuscire a accogliere di più ecco allora questa branca l'estografia è andata felicemente avanti non solo in quanto scrittura popolare ma in quanto storia sociale in quanto soggettività estesa non più solo all'uomo soldato ma molto di più alla sua moglie madre o sorella omorosa contadina perché donna perché storia di genere per la verità io rispetto alla storia di genere credo di essere stato non certo tra i più insensibili dalle mia parte insomma ho cercato via via di imparare e di acquisire nuovi strumenti metodologici naturalmente per me e qui si ritorna alla questione posta all'inizio da Maddalena Carli fin da principio mi interessava le intellettuali è vero e qui mi ricollega una cosa invece posta da Paolo Pezzino la questione che io mi ribello un po' ad essere incapsulato nello storico per antonomasia della grande guerra che in fondo no in fondo è tutto merito di Giorgio lo sa siccome Giorgio mi ha adottato e mi ha detto che andavo bene anche così com'ero tanto lo storico militare era lui e mettendoci insieme potremmo coprire più ampi spazio allora in questo modo qui tutto quello di cui io in realtà non mi occupavo cioè fondamentalmente la guerra niente meno non era non faceva problema perché tanto se ne stava occupando lui e mettendoci insieme potevamo coprire porci tante domande ma in realtà io continuavo a occuparmi degli intellettuali degli intellettuali certo in senso molto rato non certo solo i grandi intellettuali i grandi scrittori anzi quelli il meno possibile perché come faceva ad affrontare direttamente gentile bisognava sapere di filosofia e anche croce si croce quando da interviste al giornale d'italia ma non quando croce fa il croce quando croce fa l'intellettuale civico per fortuna lo fa spesso e allora volta croce c'è serra oppure c'è marinetti benissimo tanti facevano l'intellettuale in questo modo e va bene ma è sempre storia intellettuale cioè sono io e i miei coetanei 50 60 anni prima e poi 70 e poi 100 anni prima cosa avremmo fatto se avessimo avuto 20 o 25 30 anni allora io mi dicevo beh avrei fatto come Jaillet cioè avrei parlato in fondo le solite cose quello che ho sempre fatto avrei parlato no e avrei scritto e fatto un po' di guerra eh magari ma ha fatto la guerra a Jaillet a saperlo eh mi rifermo bene nel frattempo abbiamo ricevuto una domanda dal pubblico Fabrizio Boscolo eh leggo io ricordo viene direttamente da Chioggia viene direttamente da Chioggia esce dal capitolo sulla scuola no da Sottomarina esattamente allora leggo ricordo il suo intervento di carattere storico-culturale insieme a Silvio Lanaro verso la fine degli anni 70 a Chioggia sui caratteri originali del Veneto allora era un militante del movimento studentesco come si configura oggi è questa la domanda la questione del modello Veneto alla luce dei suoi studi grazie non è che essere stato molto amico di Silvio Lanaro mi renda coautore del modello Veneto ognuno ognuno aveva i suoi ambiti nel puzzle e nella ricostruzione del puzzle Veneto lui aveva i grandi borghesi io avevo i piccoli borghesi lui aveva gli Alessandro Rossi di Marzotto eventualmente il Lampertico io avevo i sovversivi la piccola borghesia sovversiva che nell'ultimo capitolo del mito della grande guerra si apre in direzione di che cosa? del fascismo forse ma forse anche di altre cose antitetiche visto che il fascismo stesso non sa che cosa essere all'inizio del 19 tutte queste cose qui non interessavano ancora una volta il consolato io do molto peso al lavorare insieme in due al sistema diarchico nel mio libro do molto peso poco fa ho citato la diarchia con Giorgio Rochard rispetto alla prima guerra mondiale Giorgio l'ho agganciato a un certo punto perché lui ha recensito il 20 di Caporetto bene non poteva andarmi meglio perché che uno storico così fattuale come uno storico militare dicesse che si poteva fare storia della grande guerra passando attraverso la letteratura e la soggettività e beh gli devo molto perché avrebbe potuto arronzarmi duramente e dire non si fa storia della grande guerra in questa maniera ecco e allora insomma per tornare al modello Veneto io non sono personalmente andato in giro sbandierando il modello Veneto la mia parte era studiare il mondo cattolico e vedere come aveva interpretato e gestito raccontato fatto vivere da cento e più anni attraverso i giornali cesani e questi aveva scoperto di nuovo benedire Feltre Feltre ma aveva fatto scoprire la potenza dell'amico del popolo cioè il settimanale diocesano locale ma in ogni diocesi c'era un amico del popolo una difesa del popolo una vita del popolo come si chiama in diocesi di Padova di Treviso rispettivamente e avanti così e a Venezia dove non c'era abbastanza provincia c'è la voce di San Marco una vita più stentata questo era il mio contributo cioè studiare le pratiche basse dell'ideologia clericale e qui naturalmente mi tornava buona l'esperienza Fucina io avevo fatto questa esperienza diciamo Silvio era nato abbonato del mondo io no ancora una volta qui l'essere diversi comportava ricchezza io non mi ricordo di questa andata a Chioggia ma mi fa molto piacere che Boscolo che immagino marenante non Chioggiotto dato il cognome la ricordi e probabilmente avremo danzato sulla corda acrobaticamente giocando ciascuno la sua partita che era in quel momento e sarà per anni culminando l'evento in Audi che è dell'84 è una partita a cui si poteva dare il nome di modello Veto io credevo di lavorare attraverso il Veto sulla storia d'Italia e la stessa cosa credeva e sapeva di fare Silvio Ranare grazie grazie Mario ci stiamo avviando verso la conclusione vedo sono le 19 e 10 però se prima Maddalena stava intervenendo quando abbiamo riaperto il secondo giro non so se aveva una domanda una considerazione da fare e quindi darei era più una considerazione sull'ultimo diciamo periodo vedo Giulia Albanese fra noi come si tiene insieme e come si crea una scuola come si crea e come si tiene insieme una scuola in qualche modo non posso mica rivelare il segreto se no la fanno tutti ormai non si può più fare diciamo che non si può più fare qualche duro degli ex allievi infatti sotto sotto mi fa capire questo che non si può più ma perché non ci provano dico io visto che mi è stata posta la domanda oso replicare così e dopo di che ma sono tanti e credo che ognuno sono tanti sostanzialmente si riferiscono alla mia terza università a Venezia dove ho insegnato dal 91 al 2010 alla pensione non che non ci sia stato qualche allievo anche a scienze politiche però attraverso storia di giornalismo era più difficile dove ho pochissimi studenti a lezione percentualmente avevo più laureanti che non studenti a lezione per ovvie ragioni era un piccolo complementare chi glielo faceva fare già di fare storia a scienze politiche insomma non era così obbligatorio per giunta contemporanea per giunta invece come tesi laurea si ho inflitto a più di uno il giornalismo clericale oppure il giornalismo fascista a Torino a Torino ero in un magistero c'erano per dire più docenti che discenti almeno da un punto di vista qualitativo perché il preside per sempre era Guido Quazza che aveva la forza di far affluire insomma essere stato cooptato da lui perché lui mi ha fatto vinta il concorso che era anche mio direttore nella rivista nella sua facoltà ovviamente è un'altra medaglia questa non scolastica ma universitaria però poi ci sono stato anche poco tempo qualche d'uno forse sarebbe venuto fuori ma insomma ho lasciato delle tesi a metà che sono state ereditate da colleghi e colleghe ecco e dopo arrivando invece a Venezia beh lì c'era tutto c'era la facoltà di lettere c'era il corso di laurea e storie c'era un grande dipartimento di studi storici con docenti perbacco Marino Berengo Gaetano Cozzi eccetera Cozzi era quello che mi aveva fatto entrare nella facoltà di scienze politiche assieme a Ennio di Nolfo e a Toni Negri ma prima Cozzi perché mi voglio come esercitatore quando Cozzi arriva a fare storia moderna a scienze politiche a Padova nel 69 non c'è storia contemporanea ci deve occupare di lui e allora lui chiama degli esercitatori una figura di allora io faccio questo seminario ma contemporaneamente lo faccio con Riccardo Scrivano allievo di Walter Binni al Magistero e quindi anche allora la mia duplicità è assicurata una volta arrivato a Venezia e vabbè lì mi scateno mi aspettano diversi che vogliono chiedermi la tesi a me piace la tesi sono convinto che sia una bellissima cosa piangerò lacrime a mare quando verrà sabotata molti colleghi non aspettavano loro non vedevano loro hanno anticipato con l'agile speme l'arrivo della riforma per abolirla perché noi c'erano più voglia perché una tesi laurea chiede lavoro naturalmente non solo allo studente a laureando ma anche al professore e quindi farla non per finta per davvero significa io la facevo per davvero e volevo tanto farla per davvero che ho inventato questo seminario settimanale obbligatorio tanto Stua Dulce faceva storie contemporanea accanto a me e se qualche d'uno non se la sentiva non poteva ma qualcuno non poteva perché lavorava magari o che so io non poteva seguire settimanalmente il seminario e vabbè non lo faceva con me la materia lo faceva con il collega niente da dire ma molti lo facevano con me a molti piaceva e molti dicevano mi piacerebbe venire ma lavoro ma qua là benissimo e quando finisce qualche d'uno continua a venire lo stesso anche se ormai è laureato e siccome io non ho il distacco facile in tutti i campi mi invento il seminario dottorandi io al dottorato di Torino ci sono andato fin dall'inizio quando ancora i dottorati erano disseminati in tutta la penisola e a Torino arrivavamo da Venezia da Padova da Bologna poi ho continuato ad arrivare solo io prima da Padova poi da Venezia e anche lì io facevo il docente per la verità molto sul serio che significava seguire per davvero le tesi e questo a un certo punto lascia insomma qualche pesce si divincola e ricade nell'acqua e qualche pesce invece viene tirato su e guizza felice in fondo perché gli va bene si crea un rapporto positivo tra pesce e pescatore un po' paradossale insomma le cose sono andate così e io nelle pagine tra le più difficili da scrivere della mia autografia racconto le parti più penose di queste vicende universitarie che è che è il dopo cioè quando io ho creato troppi allievi è andata così troppi allievi potenzialmente in grado ad entrare all'università e per infelice coincidenza proprio nel momento in cui il turnover non c'è più o quasi e questa è stata la sventura di vivere appunto come dico e Pezzino ha ricordato la fine di un'università all'inizio di un'altra e allora lì si trattava di raccontare e si può raccontare come volevo io vi dicevo prima con nomi e cognomi quando sono le sventure altrui e ci sarà riuscito c'è un indotto telematico telefonico successivo all'uscito del libro ormai qualche mese fa che mi ha portato a reincontrare tutta una serie di persone di tutte le mie vite quelle vissute e quelle non vissute le vite non vissute sono anche quelle di questi bravissimi miei studenti che non sono entrati in una città quando io mi sono inventato quel titolo non pensavo mica solo a me stesso e qualche uno di voi sa o può è in grado di dare i nomi ma io qui mi fermo grazie grazie Mario nel frattempo Fabrizio Boscolo Caporale ci segnala che lui si autodefinisce marinante 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 sotto marina c'è come è ok l'avevo capito benissimo allora io vedo siamo arrivati all'ora che in genere chiudiamo questi nostri incontri io sono veramente contento di questo incontro di stasera abbiamo veleggiato su molte terre molti mari ecco che mi squilla il telefono anche lagune lagune soprattutto la laguna vero che si stanno a cuore quindi fra questioni storiografiche storia politica e culturale dell'Italia un bel viaggio una una bella vita vissuta e no che ci ha permesso di fare un bel viaggio nella nostra storia storia che ci sta molto a cuore a tutti grazie a te Mario ringrazio molto questo come ti sei definito bieco statalista grazie grazie mille davvero e saluto ringrazio anche Maddalena Carli Paolo Pezzino Presidente dell'Istituto Parri e tutti coloro che ci hanno ascoltato e ci hanno seguito fino ad oggi e tanti auguri a tutti ci vediamo poi per il prossimo appuntamento del dei giovedì del Parri ad aprile grazie buona sera grazie arrivederci arrivederci grazie